Ciao Marco, buongiorno, e benvenuto al nostro incontro bevendo un caffè e parlando di psichiatria. Ciao Francesco, ben ritrovato. Oggi vorrei parlare con te di un argomento che non credo che sia così conosciuto in maniera chiara, che è il tema delle patologie che sono a confine tra psichiatria e neurologia o di patologie psichiatriche che hanno anche degli aspetti neurologici e patologie neurologiche che hanno anche degli aspetti psichiatrici, si potrebbe dire in questi termini. Mi viene in mente la sindrome di Gilles e la Tourette, tanto per fare un esempio, ma ne parlerai, ma per capire di cosa stiamo parlando, oppure di aspetti comportamentali che possono essere presenti in patologie chiaramente di tipo neurologico. Vediamo un po' a parlarne, mi sembra un argomento poco, poco, poco conosciuto. Sì, è un argomento in cui non solo è poco conosciuto, a volte c'è una certa confusione ancora oggi. Lo dico per i non editi lavori che ci ascoltano. Ancora oggi si fa confusione tra psichiatria, neurologia, psicologia. Allora, diciamo subito che psichiatria e neurologia sono due discipline separate, oramai da molti, molti anni, che nascono però da un ceppo comune. Fino agli anni 70, diciamo, la neuropsichiatria era un'unica disciplina che si occupava di tutte le patologie del sistema nervoso centrale. Perché c'è stato a un certo punto la necessità di separare queste due discipline? Perché da un lato abbiamo le patologie organiche del sistema nervoso centrale, quindi l'epilessia, le demenze, l'ictus, e questo è il territorio della neurologia, e dall'altra ci sono le cosiddette patologie funzionali del sistema nervoso centrale, quelle che hanno a che fare, diciamo, con la follia in senso tradizionale, e quindi gli disturbi d'ansia, la depressione o le psicosi. Questa divisione è una divisione un po' arbitraria. Adesso che siamo qui a parlare di aree di confine, ci rendiamo conto che in realtà esiste un'area di sovrapposizione. Se possiamo dire oggi che le patologie di cui si occupa la psichiatria non abbiano basi organiche, perché certamente c'è una base biologica che non spiega tutto, ma naturalmente spiega una certa predisposizione a, e sappiamo quanto in neurologia l'aspetto, diciamolo così, psicologico-relazionale, sia fondamentale anche nelle patologie organiche che è citata. Quindi c'è stato negli anni, dopo una separazione, diciamo un progressivo riavvicinamento di queste discipline, che si realizza soprattutto in alcuni quadri clinici. Tu hai già citato qualche esempio, io direi, mi focalizzerei su due esempi che sono i più comuni forse, e anche i più interessanti da un punto di vista clinico. Per esempio da un lato il morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson è una patologia abbastanza frequente neurologica e che pone grossi problemi interessanti di integrazione tra psichiatra e neurologo sia da un punto di vista del, diciamo, modello concettuale di patogenesi della malattia, sia da un punto di vista clinico, banalmente, di scelta del trattamento, se avremo tempo di parlarne, perché diventa davvero un esempio di integrazione tra specialisti molto, molto sofisticata. Un altro classico esempio sono le demenze. Le demenze in senso lato, non solo la malattia dell'Alzheimer, perché a volte i sintomi psichiatrici sono preesistenti o anticipano di anni l'insorgenza di disturbi cognitivi e diventa sempre molto difficile capire dove è il confine tra l'aspetto organico e l'aspetto, diciamo così, funzionale, cioè di risposta alla malattia. Pongo quindi il primo problema, che è quello teorico, che interessa al clinico. Al di là delle differenze, al di là che come penso sia già chiaro a tutti, questo presuppone un incontro tra specialisti differenti, come minimo, psichiatra e neurologo, che devono dialogare. Il primo problema teorico che si pone è qual è il confine, per esempio, in una malattia per Parkinson, tra l'aspetto organico che si manifesta con sintomi psichiatrici e l'aspetto psichiatrico che ha alla base, invece, un disturbo organico. Questo è un argomento, diciamo, di un certo interesse, perché sappiamo che dal 40 al 60% dei malati di Parkinson ha disturbi psichiatrici, il più comune sono disturbi depressivi, ma esistono disturbi d'ansia, disturbi da discontrollo degli impulsi. Chiedo scusa, a questo proposito mi sembra importante ricordare Michael G. Fox, l'attore americano, quello di Ritorno al futuro, che ha avuto un Parkinson molto giovanile e che si è molto battuto proprio per riconoscere l'importanza anche degli aspetti psichiatrici, essendo lui un depresso, della sua malattia e la sua testimonianza va nella linea di quanto tu stavi dicendo. Credo che sia utile perché la gente che ci ascolta può avere un riferimento, no? Certo, certo, ed è interessante perché a volte i disturbi psichiatrici anticipano di tempo l'insorgenza dei disturbi motori del Parkinson e il quesito è sempre siamo di fronte a un epifenomeno dell'aspetto organico, cioè la degenerazione della sostanza nigrea presente nel Parkinson, si presenta con sintomi psichiatrici oppure siamo di fronte a la reazione psicologica o psichica a quello che poi sono i disturbi motori, quindi l'impatto sulla qualità della vita. E qui entriamo poi nella casistica dei singoli casi. Noi abbiamo pazienti che hanno una componente depressiva che probabilmente è molto legata all'aspetto organico del Parkinson, penso alla dimensione anedonia che è quella forse prevalente nel parkinsoniano e abbiamo pazienti che hanno reazioni di tipo depressivo per esempio al progressivo in sorgenza di disturbi motori che impattano sulla qualità della vita. E' chiaro che distinguere sul singolo paziente orienta poi anche il trattamento. Ecco, ma in questo senso, limitatamente al Parkinson, poi parleremo della demenza che mi sembra, come tu giustamente hai detto, un altro capitolo importante. Qual è il tipo di integrazione del lavoro tra psichiatra e neurologo nel caso dei pazienti parkinsoniani con problemi di tipo psichiatrico coesistenti? Allora, porto ad esempio forse il caso più complicato in assoluto, ce ne sono due o tre casi complicati, ma nella mia esperienza di collaborazione con i colleghi neurologi, i parkinsonologi, devo dire che i casi più complicati sono il paziente bipolare che ha Parkinson. Perché? Perché quando si… qui abbiamo di fronte due patologie, cioè il paziente ha una storia di disturbo bipolare consolidata e sviluppa una malattia di Parkinson. Quindi abbiamo due patologie, una vera comorbidità. Perché la situazione è più complicata? Perché quando ci approcciamo al trattamento, noi sappiamo che alcuni trattamenti che utilizziamo nel disturbo bipolare possono peggiorare il decorso della malattia di Parkinson. E alcuni trattamenti usati nel morbo di Parkinson possono peggiorare il decorso del disturbo bipolare. Allora, come si fa a uscire da questo impasse? È evidente che bisogna confrontarsi su degli schemi terapeutici estremamente complessi e personalizzati che tengano conto di vulnerabilità individuali, perché non è che tutti i pazienti con disturbi bipolari sono uguali tra di loro, anche in termini di trattamento, e anche i parkinsoniani non sono tutti, esistono delle forme cinetiche, delle forme ipercinetiche e così via. Ecco che il terreno diventa la conoscenza di quella che è non solo il proprio specifico, ma è il lavoro anche dell'altro specialista, e una politerapia, se parliamo di farmacoterapia, che necessariamente è una politerapia che deve tenere conto delle caratteristiche del paziente, le possibili interazioni dei trattamenti, sia in termini di efficacia, sia in termini di collateralità. A volte il ragionamento è veramente molto complicato e quindi richiede un dialogo serrato tra i due specialisti, perché ovviamente si hanno le mani un po' legate, no, talvolta. A volte la scelta diventa una scelta del meno peggio in una scala di priorità che ora fa propondere il pendolo verso, per esempio, il trattamento del discorso psichiatrico, ora il pendolo va verso la malattia invece neurologica, perché anche questo, a seconda della tempistica, può cambiare. È un esempio pratico di situazione molto complessa in cui quello che è fondamentale è avere un rapporto di conoscenza e di stima reciproca, perché poi questo è l'ingrediente fondamentale per poter dialogare e di rispetto del lavoro altrui, senza preconcetti, anche su questo, talvolta presenti. Ecco, parlando delle demenze, che mi sembra un tema, come dire, per certi versi lo chiamo molto moderno, perché in realtà molte demenze derivano dal fatto semplicemente che per fortuna viviamo più a lungo. E quindi quella che sembra una patologia nuova è in realtà derivante dal miglioramento della nostra vita. Cioè, in passato le demenze erano meno diffuse ed erano meno studiate perché c'erano meno vecchi. Però questo mi sembra evidente, no? Cioè, è una delle considerazioni che va, secondo me, fatta. Però, al di là di questo, siamo in una situazione in cui le demenze in realtà rappresentano, proprio per l'invecchiamento generale della popolazione, un tema estremamente importante e di grande impatto sociale. per la difficoltà dell'assistenza a volte, no? E quant'altro. Però è un tema dove, accanto a aspetti di tipo neurologico, di decadimento cerebrale evidente, esistono anche dei problemi di disturbi comportamentali che sono altrettanto evidenti. E dove, evidentemente, occorre un lavoro integrato, no? Tra lo specialista neurologo che si occupa della demenza in termini fisici, è lo specialista psichiatra che deve aiutare, credo, no? La terapia riabilitativa o comunque l'assistenza cercando di diminuire quelle che sono le componenti, diciamo, di disturbo comportamentale che spesso, non sempre, ma che spesso sono associati ad un quadro demenziale. Ecco, come si concretizza l'intervento dello psichiatra? Quali criticità ci sono? E come avviene la terapia integrata in questi casi? Beh, tanto, appunto, come dicevi tu, è un argomento importante perché ricordiamo che nel nostro paese il 24% della popolazione è over 65, ma se rimaniamo alla nostra regione, alla Liguria, siamo al 28%, quindi più di un quarto della nostra popolazione è over 65, quindi ragionevolmente più esposti a problemi di deterioramento. L'altro aspetto importante, tu giustamente hai parlato di demenze al plurale e non di demenza, perché le demenze in realtà sono tante e sono un gruppo di malattie con un decorso anche differente, qui non parliamo solo di malattia di Alzheimer, ma anche le demenze vascolari, demenze miste e anche le forme più rare. Allora, faccio due esempi clinici per rispondere alla tua domanda. Il primo, il caso in cui viene chiamato in partita lo psichiatra perché c'è la comparsa di una sintomologia psichiatrica in un soggetto anziano, tipicamente una depressione, che è il primo segnale di un decadimento, il cui però effetto cognitivo evidente avverrà magari qualche anno dopo. Qui diventa importante che lo psichiatra abbia la capacità di fare una diagnosi differenziale e avviare, se è il caso, il paziente, a un collega neurologo per accertamenti, per identificare precocemente una situazione che in questo caso è, tra virgolette, un fenomeno in realtà della demenza. Questo è un fenomeno abbastanza frequente, quindi in un soggetto senza nessun precedente e con alcune caratteristiche cliniche particolari che per esempio non risponde a un trattamento antidepressivo. Questo vale per lo psichiatra, ancora di più per il medico di medicina generale. Il sospetto di poter essere di fronte a un'insorgenza di una demenza con sintomatologia psichiatrica deve essere sempre valutato. Viceversa, ci sono pazienti che presentano evidenti disturbi cognitivi, quindi arrivano al neurologo e che sviluppano, per esempio, una sindrome depressiva e una sindrome d'ansia che non solo è un, come dire, un accidente, ma peggiora il decorso della demenza perché la compliance ai trattamenti, la capacità di collaborare ai trattamenti, per esempio, di tipo riabilitativo è molto compromessa. Qui sta al neurologo non focalizzarsi sul puro aspetto, tra virgolette, motorio, cognitivo, scusami, e, per esempio, valutare la possibilità di trattare adeguatamente anche una sindrome depressiva. E con trattare non intendo dire solo farmaci, intendo dire anche trattamenti psicoterapici. Perché ci siamo, teniamo anche conto che la qualità di vita, tra virgolette, compromessa, soprattutto nelle fasi iniziali della demenza, spesso e volentieri ha come reazione depressive. Allora, tutto questo presuppone, quindi, che all'interno della propria specializzazione ci debba essere una conoscenza, una consapevolezza anche di quelle che sono il lavoro, le possibili competenze, tra virgolette, di altri specialisti. Nel caso dello psichiatra, per esempio, di un neurologo competente nel campo delle demenze per fare una diagnosi precoce, un trattamento, se c'è l'indicazione, ma viceversa nel neurologo che possa appoggiarsi a uno psichiatra nel trattare adeguatamente la comorbidità psichiatrica, che talvolta è una vera comorbidità, non è solo un epifenomeno della demenza. A volte siamo di fronte a veri quadri di demenza. Terzo e ultimo esempio sono il discontrollo degli impulsi. Questo vale sia per gli Parkinson che per le demenze. In una certa fase delle malattie ci possono essere dei fenomeni di impulsività, è classico nel Parkinson per esempio il gioco d'azzardo patologico o disturbi di tipo comportamentale, di tipo di scontrollo, nella demenza tipicamente crisi di agitazione. Allora, anche qui, spesso viene chiamato in partita lo psichiatra in acuto come, tra virgolette, competente nella gestione dei comportamenti, quando invece il territorio spesso richiede dei trattamenti neurologici, perché qui si tratta di mettere a punto trattamenti adeguati. Nel caso di Parkinson, per esempio, alcuni trattamenti che si usano nel Parkinson possono determinare e facilitare del discontrollo. Anche qui quindi, diciamo, ci vuole, tra virgolette, una comunicazione tra i due specialisti, perché altrimenti il rischio è quello di rimanere con un approccio, come dire, un po' settario e non tenere conto delle risorse che ci sono e che possono essere messe in campo da tutti e due i fronti. Ecco, l'ultima domanda che volevo farti è a proposito della specializzazione. Mi spiego. Mi sembra, mi risulta, che sia molto più chiara, in ambito neurologico, la specializzazione nei confronti delle demenze. Cioè, ci sono neurologi che si sono molto specializzati nella cura delle demenze. Lo stesso, non mi sembra che, con la stessa chiarezza, stia accadendo o sia accaduto da parte della psichiatria. Tradotto in altre parole. La mia domanda è, vista la diffusione di questo tipo di disturbi, vista il progressivo mondiale incremento dell'età media delle persone, con le punte incredibili del Giappone e dell'Italia. Ma rimanendo nell'Italia, noi siamo un paese di vecchi. Non credi che sia molto importante che all'interno della psichiatria si sviluppi di più di quanto non sia, già stato fatto, ma non lo sto negando, una specializzazione molto più forte nei confronti della psichiatria dell'età avanzata, proprio per permettere quella specializzazione, quel chiarimento maggiore della complessità dei quadri per far sì di poter aiutare meglio i nostri pazienti? Sì, lo penso anch'io. Penso che la psicogeriatria cosiddetta, che ha oramai un terreno fertile nella psichiatria, esiste anche una società scientifica che oramai da anni porta avanti approfondimenti in questo senso, sia una specializzazione molto utile, se non necessaria, in campo psichiatrico, non solo per la conoscenza delle patologie dell'anziano, ma perché lo stile di lavoro e l'approccio vuol dire anche saper affrontare i cambiamenti legati all'invecchiamento, sia in termini fisiologici, sia in termini patologici, che sono profondamente diversi da quello che capita nell'adulto o nel giovane. Così come oramai siamo tutti d'accordo che sia una specializzazione occuparsi di esordi e quindi che la fascia adolescenziale richieda delle competenze specifiche, sono altresì convinto che la psicogeriatria sia un'altra area di confine che merita una specializzazione. Aggiungo un terzo campo, e cioè abbiamo parlato di integrazione tra psichiatria e neurologia. Penso che anche su questo, diciamo se una preparazione di base sia auspicabile in tutti gli psichiatri, in tutti i neurologi, devo dire che in questo le scuole di specializzazione oggi garantiscono una formazione reciprocamente valida, ma quando poi entriamo nella clinica, beh, io penso che anche su questo non è detto che tutti gli psichiatri abbiano gli strumenti per affrontare queste patologie di confine, e anche questo potrebbe essere una sorta di area di specializzazione, cioè che alcuni psichiatri abbiano delle competenze specifiche, per esempio nel campo delle malattie neurologiche a confine con la psichiatria, proprio perché sono campi difficili da trattare che richiedono conoscenze e competenze specifiche. Uno dei problemi della psichiatria, ma magari ne parleremo in un altro caffè, è proprio questo, e cioè avendo molte anime al suo interno, da un lato deve garantire una formazione generalista che non, come dire, che sia di ostacolo a riduttivismi, in cui il paziente viene sezionato e diventa una sorta di prototipo che si allontana dalla realtà, dalla storia delle persone. Quindi abbiamo bisogno di un approccio generalista, ma poi abbiamo bisogno anche di specializzazione. E l'equilibrio tra l'attività generalista e la specializzazione è una delle grandi sfide dei dipartimenti moderni. Cioè qual è il punto di equilibrio tra una specializzazione che garantisce qualità ma rischia di farmi perdere di vista la complessità e un'attività generalista che mi garantisce gestione della complessità ma rischia di scadere nella qualità. Sì, sono d'accordo Marco. Tante volte tu hai detto che il concetto di presa in carico è fondamentale rispetto alla cura in senso stretto. Ecco, io credo che effettivamente nel momento in cui noi prendiamo in carico un paziente e magari nell'arco della sua vita come giustamente capita a tutti noi si cambia credo che sia giusto parlando del pubblico che il pubblico possa offrire a questo paziente appunto degli specialisti che conoscono bene anche l'evoluzione del suo quadro di vita e conseguentemente anche l'evoluzione della sua patologia. In questo senso credo che la presa in carico del paziente come singolo paziente e non come categoria anche in termini diacronici sia assolutamente fondamentale. Non trovi? Sì, sì, sono d'accordo. Potremmo immaginare una presa in carico a lungo termine con delle aree di specializzazione di secondo livello di tipo consulenziale, per esempio. Bene Marco, grazie, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Ciao Francesco.